Tribunale Procura di Vibbo, negativi tutti i tamponi sui dipendenti. Tutti i negativi tamponi effettuati su 70 dipendenti del Tribunale della Procura di Vibbo Valentia. L'esito definitivo è arrivato ieri sera e tranquillizza definitivamente tutti, su voci infondate e allarmismi inutili, generati dopo che 28 dipendenti erano risultati positivi agli anticorpi del coronavirus a seguito del test sierologico rapido cui si erano sottoposti. I tamponi erano stati disposti dopo la preoccupazione che si era ingenerata tra i lavoratori e i frequentatori del Palazzo di Giustizia, direttamente dal Procuratore Capo Camillo Falvo e dal Presidente del Tribunale Antonino Di Matteo, al fine proprio di scongiurare inutili allarmismi. A stemperare l'agitazione era stato in precedenza anche il secondo test sierologico, effettuato dai 28 positivi agli anticorpi, in strutture private e tutti con esito negativo. Il primo test sierologico alla luce dei fatti si è dimostrato così poco affidabile. Regione, via Belcastro e Apicella dalle postazioni di direttori generali. In vista dell'annunciata riorganizzazione della macchina burocratica con la definizione dei dipartimenti, l'Aggiunta regionale, nella riunione di ieri sera, ha proceduto alla sostituzione soltanto dei dirigenti esterni, rinviando scelte definitive ai nuovi assetti della struttura burocratica. Hanno dunque lasciato la cittadella regionale il segretario generale Ennio Apicella ed Antonio Belcastro alla guida del Dipartimento Tutela della Salute. Al loro posto sono stati nominati dirigenti di settore facenti riferimento allo stesso dipartimento. Eugenia Montilla svolgerà le funzioni di segretario generale, vicario e Francesca Fratto del settore salute. E' cambiato il DG dell'urbanistica Domenico Antonio Schiava, sostituito da Maria Francesca Gatto. Tutti gli altri sono stati confermati da reggenti, ovvero Tommaso Calabrò, Programmazione Comunitaria, Filippo Decello, Bilancio, Roberto Cosentino, Lavoro, Giacomo Giovinazzo, Agricoltura, Felice, Iracca, Sviluppo Economico, Domenico Pallaria, Lavori Pubblici, Orsola Reiello, Ambiente, Paola Rizzo, Programmazione Nazionale, Sonia Tallarico, Istruzione, Fortunato Varone, Presidenza e Prociv e Bruno Zito, Risorse Umane. L'idea a cui sta lavorando l'assessore al personale Franco Tallarico, d'accordo con il presidente Iole Santelli, è quella di accorpare alcuni dipartimenti facendoli scendere da 15 o non più di una decina. E' verosimile che la nuova mappatura del racconto delle deleghe è attualmente assegnata agli assessori. Una volta composto il nuovo schema dei dipartimenti, potranno partire gli avvisi per i nuovi manager della cittadella. Per Tele Ionio, Anna Maria Colabrano. Brangheta, torna in carcere Carmine Alvaro, era stato scarcerato ad aprile per il Covid-19. Giovedì i carabinieri della stazione di Sinopoli hanno tratto in arresto Carmine Alvaro, 61 anni, in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Palmi per l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale era stato ammesso solo il 21 aprile scorso, che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere nell'ambito dei provvedimenti tesi a prevenire il rischio di diffusione dell'epidemia da virus Covid-19 nelle carceri. L'uomo si trovava in carcere nel settembre 2018, quando era stato colpito da misura cautelare per associazione di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione Iris, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, dall'aggiunto Gaetano Paci e dal sostituto Giulia Pantano, e condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria contro la cosca degli Alvaro di Sinopoli. L'inchiesta avrebbe accertato l'influenza della consorteria nell'assegnazione di importanti appalti pubblici e il suo stretto legame con alcuni amministratori locali, tra i quali il sindaco di Delia Nuova, Francesco Rossi, anch'esso destinato a Ario di misura cautelare ed attualmente agli arresti domiciliari. Il 21 aprile scorso, nell'ambito delle misure adottate per il contenimento della diffusione del rischio dell'infezione da Covid-19 nelle carceri, la misura della custodia cautelare in carcere, cui era sottoposto, era stata sostituita con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Ma già il giorno dopo l'uomo avrebbe dimostrato di non rispettare le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Difatti, nel corso di un controllo dei carabinieri della stazione di Sinopoli, Alvaro sarebbe stato trovato in compagnia di tre soggetti non autorizzati ad avere contatti con lui, di cui uno, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si sarebbe anche nascosto sotto ad un letto. Alvaro si sarebbe dimostrato incurante delle prescrizioni imposte, facendosi beffa non solo del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria che poneva il divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi, ma altresì delle disposizioni governative poste a tutela della collettività in ragione dell'epidemia in corso e che ponevano il divieto di ricevere o fare visita alle persone. In ragione della violazione accertata dai carabinieri, la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha pertanto richiesto l'aggravamento della misura cautelare al Tribunale di Palmi, che concordando pienamente con le valutazioni del pubblico ministero, ha disposto la custodia cautelare di Alvaro presso il carcere di Palmi, dove al termine delle formalità di rito è stato tradotto dai carabinieri. Drangheta, Carmine Alvaro torna in carcere. Il commento di Vandaferro. Scarcerato per evitare il rischio di contagio in cella, una volta a casa incontrava gli amici del tutto incurante delle misure del contenimento dell'epidemia. Il nuovo arresto da parte dei carabinieri di Carmine Alvaro dimostra quanto disastrosi e pericolosi sono stati gli effetti delle decisioni del governo che hanno consentito di mandare a casa centinaia di mafiosi. E' quanto ferma il segretario della Commissione parlamentare antimafia Vandaferro di Fratelli d'Italia dopo la notizia del nuovo arresto di Alvaro finito in manette nel 2018 nell'ambito dell'operazione Iris, condotta dalla direzione di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri contro la cosca di Drangheta di Sinopoli e scarcerato il 21 aprile scorso a causa dei provvedimenti svuota carceri per il rischio coronavirus. Già il giorno dopo la concessione dei domiciliari prosegue Vandaferro, Alvaro è stato trovato dai carabinieri in compagnia di altri soggetti non autorizzati, dimostrando di farsi beffa non solo dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ma anche delle prescrizioni del governo per il contenimento del coronavirus. Il governo anche attraverso agli aberranti provvedimenti del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria ha trasformato il Covid in un jolly che ha consentito a mafiosi e delinquenti di lasciare le proprie celle. Nonostante sia evidente che l'isolamento dal carcere è forse il modo più sicuro per stare al riparo dal rischio di contrarre il virus. Abbiamo chiesto più volte al Presidente Conte e al Ministro Bonafede di spiegare cosa ci sia dietro la scelerata catena di provvedimenti che ha spalancato le porte delle carceri italiane, costringendo le forze dell'Ordine e la Magistratura a moltiplicare gli sforzi investigativi e di controllo del territorio per tenere sotto sorveglianza pericolosi criminali che ora hanno l'opportunità di riprendere la loro rete di relazioni e le loro posizioni di potere. Daniela Maiolo per Teleionio Coronavirus, ordinanza della Santelli, sì a spostamenti in regione per selezione cinghiali. È consentito ai selettori attivati e autorizzati lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Calabria per l'attività di selezione del cinghiale. Lo prevede un'ordinanza del Presidente della Regione Iole Santelli. Nell'ordinanza, la numero 42 dall'inizio dell'emergenza coronavirus, si prende atto delle numerose segnalazioni e del pericoloso aumento degli avvistamenti di cinghiali anche in prossimità dei centri abitati che a causa della temporanea sospensione dell'attività dei selettori dovuta all'emergenza, ha generato una crescita esponenziale di questi pericolosi mammiferi nei territori calabresi. Per effetto della predetta aumentata invasione di cinghiali si registrano, prosegue il provvedimento regionale, ingenti danni all'intero settore agricolo regionale, aumentati i rischi per l'incolumità delle persone fisiche nonché potenziali ripercussioni negative sotto l'aspetto dell'equilibrio ambientale. L'ordinanza, quindi, ritiene essenziale favorire la ripresa dell'attività di selezione al cinghiale al fine di consentire il necessario controllo della specie. Pertanto è consentito ai selettori attivati e autorizzati lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Calabria per l'attività di selezione del cinghiale a condizione che la medesima attività si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Daniela Maiolo per Teleionio. Diffusione cinghiali, pellegrino, attivati sele controllori a Maierato, Francavillangitola, Monterosso e Santonofrio. Da stasera nei comuni di Maierato, Francavillangitola, Monterosso e Santonofrio saranno attivi i sele controllori in ottemperanza quanto previsto e disposto dall'ordinanza regionale della Presidente Iole Santelli. E' quanto afferma il commissario del Parco delle Serre, Giuseppe Pellegrino, che spiega che con l'assessore Gianluca Gallo si è deciso di utilizzare in quest'area il maggior numero di sele controllori per cercare di dare una risposta immediata agli agricoltori di questo territorio in un momento difficile. Sempre con l'assessore Gallo ed il direttore generale del Dipartimento, aggiunge Pellegrino, si è deciso di terminare l'iter del corso di formazione fatto dall'ATC per la formazione di altri 130 sele controllori che nei prossimi mesi potranno essere utilizzati su tutto il territorio regionale per contrastare questo fenomeno di soprannumero di unugulati. Incontro in cittadella tra Santelli e i cinque prefetti calabresi su emergenza rifiuti. Si è svolto presso la cittadella di Germaneto Catanzaro un incontro tra il presidente dell'Aggiunta regionale Iole Santelli e i cinque prefetti delle province calabresi in un clima di grande collaborazione e di cordialità istituzionale. Unitamente alla volontà di portare avanti un percorso di collaborazione si è affrontato il raccordo sull'emergenza dei rifiuti e si è deciso di dare avvio al monitoraggio periodico dell'attività che andranno messe in essere per normalizzare il ciclo. In questo senso è stato avviato un processo di condivisione più generale degli atti organizzativi, non solo per quello che riguarda la gestione dell'emergenza nella Comune volontà di dare avvio ad un nuovo percorso su una materia così delicata tra la Regione Calabria e le prefetture calabresi quanto si legge in una nota della Regione. Da Carla Elisabeth Taverna per Teleionio Emergenza rifiuti. Ferrara, Movimento 5 Stelle, rimprovera la Regione. Deve superare le discariche. Puntuale con i primi caldi si presenta in Calabria l'ennesima emergenza rifiuti. Moltissimi centri, anche e soprattutto di grandi dimensioni, da giorni sono letteralmente sommersi dalla spazzatura e lo scaricabarile, anche questa volta, accompagna questa crisi. L'eurodeputata Laura Ferrara interviene sull'emergenza rifiuti che da giorni attanaglia la Calabria e invia apposita interrogazione alla Commissione europea. Questa nuova emergenza, scrive, legata al ciclo di smaltimento dei rifiuti è causata, oltre che dai soliti problemi di sostenibilità finanziaria, anche dall'assenza di siti deputati allo smaltimento. L'attuale piano di gestione dei rifiuti per la Calabria presentava alcune timide azioni tese a migliorare la situazione, tra cui il conseguimento dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata e l'entrata in funzione di nove nuovi impianti pubblici di trattamento dei rifiuti da completare entro la fine del 2020. Nella querel della nostra politica regionale, tali soluzioni non trovano spazio. Si continua infatti a portare avanti l'espediente della discarica. Nel frattempo, l'ammasso dei rifiuti lungo le strade delle città calabresi costituisce una grave emergenza, aggravata, così come si precisa nell'interrogazione alla Commissione europea, dall'inalzamento delle temperature e dall'emergenza Covid. Fra le scadenze a cui dovrebbe ottemperare la Regione Calabria, ricorda la Ferrara, vi sono le modifiche richieste dall'UE proprio al piano regionale di gestione dei rifiuti. Infatti, entro il 5 luglio, la Regione dovrà presentarne uno riveduto ed in linea con la recente normativa dell'UE in materia di rifiuti che stabilisce nuovi obblighi riguardanti, tra l'altro, la prevenzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, obiettivi di riciclaggio più ambiziosi e un obiettivo di riduzione del numero di discariche. Quindi, la strada da perseguire non può essere l'apertura di nuove discariche o di quelle chiuse da anni e che dovrebbero essere, al contrario, bonificate. In una risposta ad una mia recente interrogazione sull'argomento, la Commissione sottolinea come l'esistenza di un valido piano di gestione dei rifiuti è uno dei prerequisiti affinché gli Stati membri possano attingere ai fondi strutturali per sostenere l'infrastruttura di gestione dei rifiuti nel rispetto della gerarchia dei rifiuti. Un motivo in più per superare in maniera strutturale il conferimento in discarica e puntare sugli impianti di smaltimento pubblici sin da ora, conclude Laura Ferrara. Daniela Maiolo per Tele Ionio Trasversale delle Serre, tassone e ribatti al comitato, finita l'epoca dei populismi. Ho sempre seguito dal punto di vista istituzionale le vicende della trasversale delle Serre, prima in qualità di sindaco ed ora di consigliere regionale. E nei giorni scorsi, al fine di conoscere sin nei dettagli lo stato dell'arte, ho presentato un'interrogazione insieme al collega Francesco Pitaro. Il mio obiettivo è quello di contribuire a rendere concreta un'opera che può costituire un grande passo in avanti per lo sviluppo, che può facilitare gli spostamenti, gli scambi e quindi agevolare la crescita sociale ed economica. Il consigliere regionale del PD Luigi Tassone parte da questa premessa e nella consapevolezza che l'infrastruttura è un patrimonio della comunità, puntualizza quelli che a suo avviso sono i ruoli degli altri attori sociali. Apprendo con stupore della stampa, afferma che il presidente di un comitato fantasma si prende il lusso di dispensare pagelle, emettere sentenze, indicare con tono perentorio ai rappresentanti istituzionali quelli che possono dire o fare. Insomma, i rappresentanti scelti democraticamente dal popolo dovrebbero, secondo le sue intenzioni, attenersi agli ordini imposti dai comitati che hanno speculato sulle tendenze del momento per ritagliarsi spazi di visibilità. Comitati che sono passati dalla lotta senza quartiere all'ANAS all'andarci a braccetto, pronunciando parole mielose che hanno concentrato il loro sforzo comunicativo nel periodo preelettorale ed elettorale che appaiono e scompaiono a seconda della congiuntura. Per Tassone queste forme di populismo esasperato hanno fatto il loro tempo e adesso è il momento del ritorno della politica vera e seria. È evidente, spiega Tassone, che ci sono stati dei ritardi nella realizzazione della trasversale, ma è altrettanto chiaro che nell'ultimo decennio, grazie allo stimolo dei cittadini e dall'impegno dei rappresentanti istituzionali che hanno affrontato con passione civile il tema nelle sedi preposte, c'è stata una decisa accelerazione e sono state allocate le opportune risorse per il suo completamento. Personalmente continuerò a spendermi intervenendo nei tavoli istituzionali e seguendo ogni evoluzione, perché è giusto portare avanti le istanze del popolo e perché è stato il popolo a darmi attraverso il voto questo incarico. Non accetto, conclude, moniti e avvertimenti palesi o velati di chi taccia gli altri di non avere titolo per intervenire senza interrogarsi sulla validità del proprio. Chi vuole ergersi a giudice supremo si confronti con la volontà popolare e si sottoponga al giudizio dei cittadini. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Il Comitato Trasversale delle Serre attacca Tassone e è uscito dall'etargo. Capisco che Tassone e Luigi, scrive in una nota Ulderico Nisticò, presidente onorario del Comitato Trasversale delle Serre, ignori, voce del verbo ignorare, le attività del comitato alle quali lui, nella veste di sindaco e il suo amicone censore, non hanno mai partecipato. A netta differenza dei sindaci di Argusto, Cardinale, Chiaravalle, Davoli, Fabrizia, Gagliato, Mongiana, Nardo di Pace, San Nicola da Criste, San Vito, Satriano, Vallelonga, Vazzano e di tantissimi cittadini. Ignora egli che il comitato, ben altro che apparire e scomparire, è stato ed è interlocutore della politica e dell'ANAS. Ignora che l'ANAS ha accettato esplicitamente le proposte del comitato nell'abbandonare buffi progetti di piloni e soldi che non ci sono e ha adottato l'idea di ammodernare la gagliata rotatoria con i soldi veri e disponibili. Egli, il Tassone, è stato muto come una notte senza luna quando alla regione stava Oliverio. Con lui sono stati zitti e muti i vari Soriero, quello famoso per gli svincoli 1, 2, 3, i vari Censore. Ora è solo ora che la buona sorte e i vetti di Callipo lo hanno sbalzato dal suo nulla all'elezione a consigliere, mentre la regione ha cambiato colore. Ora è solo ora, è scritto nel comunicato, affirma Nisticò, il Tassone ritrova improvvisamente la lingua prima attorcigliata e si inventa un'opposizione che mai fece prima. Come tutti quelli privi di argomenti e che devono nascondere una chilometrica coda di paglia, il Tassone ricorre alle calunnie generiche e nega l'evidenza solare. Il Comitato, impipando, se ne continua nella sua azione, il cui solo scopo è ottenere con la strada quello sviluppo che per 50 anni i politicanti ci hanno negato. Squillace, la collaborazione paga sempre. Esprimiamo compiacimento per l'assegnazione di un finanziamento regionale al nostro Comune di circa 15.000 euro per interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate. Lo affermano il Danime Soraca e Vincenzo Zofrea, consiglieri comunali di opposizione della lista civica Tutti Insieme per Squillace. Come si ricorderà, aggiungono nel dicembre scorso, avevamo segnalato al Sindaco Muccari che sarebbe stato utile partecipare al bando avente lo stesso oggetto. Dobbiamo dare atto al Sindaco che in quell'occasione, cogliendo il senso della nostra proposta, in uno spirito di massima collaborazione, presentò la necessaria domanda. Purtroppo, dicono ancora i due, qualche mese dopo abbiamo dovuto segnalare sempre al Sindaco e nel più ampio spirito di collaborazione nell'interesse della Comunità che nella graduatoria pubblicata il nostro Comune veniva escluso per una presunta pendenza debitoria. Anche in quell'occasione il Sindaco ha saputo farsi parte diligente e ha presentato alla Regione tutti i documenti necessari per fare chiarezza su un errore compiuto dagli uffici regionali. Ora il nostro Comune è stato ammesso al finanziamento. E questa è la dimostrazione che, concludono Mesoraca e Zofrea, quando chi amministra si accoglie lo spirito collaborativo dei consiglieri di opposizione, gli obiettivi si raggiungono. Via le barriere architettoniche, aggagliato il municipio diventa di tutti. Rendere il municipio la casa di tutti. Per l'aggiunta del Sindaco Salvatore Sinopoli l'obiettivo non è un mero enunciato di principio. In questi giorni l'esecutivo gagliatese ha lavorato in maniera più incisiva per rendere la sede comunale fisicamente raggiungibile da chiunque. Va per questa via l'approvazione del progetto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici comunali mediante l'installazione di un servo Scala. Il progetto predisposto dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale Roccoleone annuncia interventi per un importo complessivo di 11.597 euro. L'intervento, spiegano dall'aggiunta, verrà eseguito esclusivamente con le somme previste dal decreto del Ministero dell'Interno, 14 gennaio 2020. Il provvedimento legislativo ha inserito gagliato nell'elenco dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, beneficiari di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche come previsto dal decreto legge 30 aprile 2019, numero 34, convertito con modificazioni della legge 28 giugno 2019, numero 58. Amaroni e la famiglia Ciampa, un legame dolce come il miele. Un rapporto viscerale come pochi, Amaroni sta alla famiglia Ciampa come il cuore sta al cervello. Da qui alla volta dell'America partì il genitore, il cardiochirurgo di fama internazionale Virgilio. Qui i figli Venanzio, Gio, Thomas e Adelina tornarono per riassaporare le sensazioni della passata gioventù. Il legame ha sempre avuto il sapore dolce del raffinato miele che da queste parti si produce. I due mondi hanno sempre vissuto di reciproca generosità. L'intreccio è sempre stato spontaneo, mai interessato, opportunista o approfittatore, anche quando Venanzio è stato proclamato cittadino onorario amaronese. Da alcuni anni il suo essere figlio della cittadina del miele lo ha materializzato in gesti di naturale altruismo. Attraverso la società di comunicazione e marketing The Promotion Factory ha dato impulso a progetti diretti a valorizzare i giovani ed a realizzare iniziative di formazione. Così è nata la borsa di studio Vicky Ciampa, intitolata alla propria mamma e destinata all'assegnazione di due borse di studio per giovani studenti e laureati amaronesi. Al tempo del coronavirus gli innegabili riflessi negativi su tutto il tessuto sociale ed economico della comunità locale non hanno scalfito il senso dell'iniziativa ma ne hanno solo allargato la dimensione familiare modificandone la forma. Venanzio con la moglie Robin Merendino ed i fratelli Joe, Thomas ed Adelina hanno espressamente voluto che la borsa di studio si trasformasse in un sostegno degli studenti universitari destinando le risorse all'erogazione di un aiuto economico di solidarietà. Tradotto, l'amministrazione comunale del sindaco Luigi Ruggero ha pubblicato un avviso scadenza il prossimo 31 maggio per attivare un bonus di solidarietà. I 9.000 dollari donati dalla famiglia Ciampa inseriti in bilancio consentiranno l'assegnazione di 20 incentivi dell'importo di 400 euro ciascuno a favore degli studenti universitari. A nome della comunità maronese sottolineano gli amministratori esprimiamo ancora una volta sentimenti di riconoscenza e di apprezzamento nei confronti dei fratelli Ciampa. Ancora una volta Amaroni ha dato prova di essere un grande esempio di cittadinanza attiva. Certo non è possibile risolvere tutti i problemi ma sapere di non essere soli aiuta a sperare in un futuro migliore. Siamo veramente orgogliosi di rappresentare una comunità di così alto spessore umano e sociale. Grazie Venanzio, Robin, Joe, Thomas e Adelina per l'ennesimo gesto d'amore verso i nostri ragazzi. Amaroni è la famiglia Ciampa un legame dolce come il miele. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Virus Soverato inaugura una nuova stagione politica. Come sindaco della città di Soverato ho apprezzato l'atteggiamento tenuto nell'ultimo consiglio comunale dello scorso 7 maggio da parte dei componenti del gruppo Oltre Giulio Moraca e Giussi Altamura. Lo ferma in una nota il sindaco di Soverato Ernesto Francesco Alecci che aggiunge sono stati affrontati argomenti come il piano spiaggia comunale e la costituzione di un istituto tecnico superiore che avranno un impatto straordinario sulla crescita e lo sviluppo della nostra città. Progetti condivisi e votati dal gruppo consigliare Oltre Devo dare atto ad entrambi i consiglieri succitati come d'altronde posso affermare anche per il consigliere Riccio della partecipazione attiva e propositiva alle discussioni del consiglio comunale in cui hanno formulato interrogazioni segnalazioni interventi e suggerimenti che sono diventati stimolo per tutti venendo spesso condivisi e recepiti nelle varie proposte di deliberazione così approvate all'unanimità. A dimostrazione è che quando si lavora su idee e programmi che possono avere un impatto positivo per il territorio si può anche esprimersi favorevolmente dimostrando onestà intellettuale e amore per la propria città. Ciò non significa voler annullare il dibattito politico in seno al consiglio comunale sottolinea ancora ma avviene una nuova stagione quella del confronto talvolta acceso come d'altronde è accaduto spesso ma che alla fine possa essere leale e costruttivo che non esaurisca e sprechi energie incanalandole in assurde e sterile rivalità ma le sfrutti per l'elaborazione delle idee migliori. Mai come adesso conclude Alecci nell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus cui ha fatto seguito un'emergenza economica ho potuto apprezzare le parole dei consiglieri comunali Moracca ed Altamura pronunciate nell'ultimo consiglio comunale secondo cui a fronte della situazione emergenziale occorre ragionare e operare non come maggioranza e opposizione ma come amministrazione offrendo anche in questa circostanza la loro collaborazione a dimostrazione della loro attenzione e senso di responsabilità sui grandi temi per la città. Daniela Maiolo per Teleionio Serra San Bruno niente più turni per le visite al cimitero segnali di avvio di ritorno alla normalità anche a Serra San Bruno dove il commissario straordinario Salvatore Guerra ha emanato una nuova ordinanza per regolamentare secondo disposizioni più permessive l'accesso al cimitero la novità sostanziale è l'addio ai turni cadenzati secondo la lettera iniziale del cognome dei visitatori nel revocare la precedente ordinanza Guerra ha stabilito che da lunedì l'apertura al pubblico del cimitero comunale avverrà tutti i giorni incluso festivi nella seguente fascia oraria dalle ore 8 alle ore 18 nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti con particolar riferimento all'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati al rispetto delle distanze interpersonali e dal divieto di assembramento l'ordinanza impone che alle cerimonie funebri partecipano esclusivamente i congiunti fino ad un massimo di 15 persone con funzioni da svolgersi preferibilmente all'aperto indossando protezioni per le vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro sino all'allentamento di tali misure la polizia la polizia municipale dovrà vigilare sulla corretta applicazione del distanziamento sociale durante le visite al cimitero serra chiusura traffico su viale certose Santa Maria imprenditori irritati un'altra mazzata che rischia di incidere sul nostro futuro titolari delle strutture ricettive produttive ubicate a Santa Maria del Bosco a dir poco irritati dopo l'ordinanza del commissario straordinario del comune di Serra San Bruno Salvatore Guerra con la quale sono stati chiusi al traffico pedonale e veicolare viale certose e viale Santa Maria del Bosco quando la fine dello stop imposto dall'emergenza coronavirus sembrava poter restituire una boccata d'ossigeno alle attività presenti nei luoghi santi nei pressi dei boschi ecco infatti che arriva un provvedimento di prevenzione che di fatto impedisce l'arrivo di visitatori e residenti in una zona che si propone come centro del turismo religioso è questo il contraspetto di un provvedimento che mira a prevenire pericoli ma che rischia di rivelarsi penalizzanti per chi stava tentando di uscire dalla crisi gli imprenditori mostrano delusione ma sono pronti a sollevare il problema confrontandosi con i commissari che stanno amministrando Serra per loro un'altra mazzata inaspettata con la quale fare i conti è che rischia di incidere sul nostro futuro va ricordato che il blocco non riguarda residenti e lavoratori delle attività coinvolte scoppia bombola incasolare a Girifalco ferito il proprietario squadre di vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e di staccamento volontario di Girifalco sono intervenute in contrada San Marco via Malafiore nel comune di Girifalco per uno scoppio bombola situata all'interno di un casolare di campagna a poca distanza dal centro abitato ferito in modo non grave il proprietario che ha riportato comunque diverse ustioni lo stesso in cura al personale medico del suo M118 giunto sul posto il ferito trasportato presso struttura ospedaliera dalle notizie apprese riportava ustioni non gravi su circa 60% del corpo intervento dei vigili del fuoco per l'estinzione del rogo e la messa in sicurezza della zona ha certamente in corso circa la dinamica dell'incidente sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza aggredisce agente in carcere il gastolano pluriomicidio a giudizio nel Vibonese resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate questi reati per i quali la procura di Cosenza ha ottenuto le citazioni diretta a giudizio nei confronti di Francesco Livieri 34 anni di Nicotera nel Vibonese protagonista di alcuni episodi di violenza in carcere in particolare secondo l'accusa il 25 aprile 2019 avrebbe spento una sigaretta in fronte ad un assistente capo della polizia penitenziaria per poi colpirlo con un pugno alla tempia provocandogli contusioni guaribili in dieci giorni quindi la minaccia finale con le seguenti frasi ti scanno come un capretto ti ammazzo ti ammazzo il processo si aprirà il 12 giugno prossimo dinanzi al tribunale di Cosenza Francesco Livieri è stato condannato in primo grado all'ergastolo per il duplice omicidio di Giuseppina Mollese e Michele Valerioti uccisi nel maggio 2018 tra Nicotera e Limbadi da Carla Elizabeth Taverna per Teleionio Estorce soldi ai figli per comprare droga un arresto a Crotone Maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei figli sono i reati contestati ad un uomo di Crotone RF di 36 anni gli agenti della squadra mobile gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere l'uomo consumatore abituale di stupefacenti rivolgeva insulti e minacce accompagnati da violente aggressioni fisiche ai figli che rifiutavano di dargli denaro per l'acquisto di droga nonostante si fosse trasferito in una regione del nord alla ricerca di lavoro aveva continuato a minacciare i figli rimasti a Crotone obbligandole ad effettuare a suo favore a più riprese ricariche online per un importo complessivo di svariate centinaia di euro Polizia interrompe nella notte un festino in un appartamento di Vibbo musica ad altissimo volume in un appartamento del centro di Vibbo e festino interrotto alle ore 3 di questa notte da due pattuglie della squadra volante della Polizia proprietario dell'appartamento un 32enne Vibbonese con precedenti di Polizia all'interno dell'abitazione disseminata di bicchieri e bottiglie di alcol la Polizia ha trovato tre donne e due uomini compresa tra i 20 e i 31 anni intenti a fumare e consumare alcolici nel corso dell'intervento i poliziotti si sono accorti che alcuni dei partecipanti al festino si erano pericolosamente allontanati dal tetto per non essere identificati ed hanno così individuato altri tre giovani tra i 21 e i 26 anni tra cui due ragazze che avevano raggiunto un balcone vicino i tre sono stati quindi aiutati a ripercorrere in sicurezza il tragetto inverso lungo il tetto per raggiungere l'abitazione da cui si erano allontanati per tutti sono state elevate sanzioni amministrative per la violazione delle norme in tema di spostamenti in emergenza coronavirus nei confronti del proprietario della casa abitata a bar la denuncia per il reato di disturbo alla quiete pubblica furto di energia elettrica a Catanzaro un caseificio un intero immobile alimentati abusivamente un arresto e due denunce ormai da diversi giorni i carabinieri del comando provinciale di Catanzaro hanno avviato su tutto il territorio provinciale mirati controlli nelle attività produttive e commerciali al fine di contrastare il lavoro nero e verificare il rispetto delle misure anti-covid-19 in tale ambito nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Catanzaro Santa Maria durante il controllo di un caseificio nell'area sud della città hanno incidentalmente scoperto che l'esercizio era completamente alimentato grazie a un allaccio abusivo alla rete elettrica veniva pertanto chiamato sul posto personale dell'azienda elettrica al fine di porre fine all'abuso l'accertamento permetteva di scoprire come l'allaccio abusivo si estendesse anche all'abitazione del proprietario del caseificio nonché alle vicine abitazioni dei due figli ben quattro unità immobiliari tre abitazioni ed un fabbricato commerciale erano quindi abusivamente collegati alla rete elettrica per un danno che è stato quantificato per difetto in circa 15.000 euro di corrente elettrica sottratta per il titolare del caseificio un 53enne catanzarese è quindi scattato l'arresto in fragranza con l'accusa di furto di energia elettrica mentre i due figli con la medesima accusa sono stati deferiti in stato di libertà alla procura della Repubblica di Catanzaro per l'arresto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari si è tenuta nel pomeriggio di venerdì l'udienza di convalida che ha visto l'arresto convalidato nessuna misura cautelare applicata al soggetto sequestrato manufatto abusivo destinato a ricovero animali nel Cosentino denunciato proprietario un manufatto abusivo in costruzione è stato sequestrato in località Truglio nel comune di Buonvicino dai carabinieri forestali che hanno denunciato il proprietario e possessore della struttura i militari a seguito di un controllo in un'azienda agricola del comune del Cosentino hanno individuato la costruzione in cemento su una superficie di oltre 100 metri quadri che sarebbe stato utilizzato in futuro come ricovero animali o magazzino per alimenti zootecnici le verifiche effettuate hanno accertato che il manufatto edilizio con pilastri in cemento e copertura con strutture in legno ferro e lamiera zincata è stato realizzato abusivamente in quanto i lavori sono stati eseguiti senza aver acquistato il permesso per costruire in area ricadente in zona sismica sottoposta a vincolo idrogeologico oltre al sequestro si è proceduto alla denuncia del proprietario possessore del manufatto cetraro sorpresi in casa con oltre 15 kg di marijuana i carabinieri della compagnia di paola nonostante l'emergenza sanitaria in atto hanno incrementato le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti i militari hanno arrestato o è quarantenne di cetraro noto alle forze dell'ordine ed una ragazza 27enne i due sono accusati in concorso di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dispaccio i militari dell'aliquota radiomobile impegnati in articolate attività di controllo del territorio dell'area urbana di cetraro con il supporto di personale del nucleo carabinieri cinofili di vibo valenza e dei colleghi della stazione di cetraro marina hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione in uso ai due poco prima dell'accesso all'interno della casa il dispositivo di cinturazione ha osservato la giovane ragazza probabilmente convinta che non vi fosse nessuno sul retro dell'immobile lanciare un borsone dalla finestra di un locale poi rivelato si essere la mansarda all'interno del borsone recuperato immediatamente erano occultati nove involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 15,230 kg l'accurata perquisizione dell'abitazione condotta con l'ausilio di Black pastore tedesco in forza al nucleo carabinieri cinofili di vibo valenza specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti ha consentito di rinvenire un ulteriore involucro del peso di 470 grammi contenente sempre sostanze stupefacenti del tipo marijuana gli arrestati terminate le formalità di rito su disposizione del sostituto procuratore di turno presso la procura della Repubblica di Paola coordinata dal procuratore Pier Paolo Bruni sono stati condotti presso le case circondariali di Paola e Castrovillari a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente per Tele Ionio Anna Maria Colabraro Grazie a tutti